Con la festa dell'Epifania terminano anche le vacanze di Natale per i multituristi che hanno scelto l'Alta Valle Seriana per le loro ferie invernali. Abbiamo perciò chiesto a Giada Beccarelli, responsabile dell'ufficio turistico dell'Alta Valle Seriana, di tracciarci un breve bilancio del turismo di questo periodo. Il trend è nettamente positivo per vari aspetti, per la neve, per gli affitti degli appartamenti. Siamo arrivati a circa 200 richieste per appartamenti di Capodanno a cui si sommano comunque le richieste di alberghi, le prenotazioni per chalet, aziende agrituristiche. In generale comunque il periodo del Capodanno si mantiene in linea, forse qualcosina di più, degli anni precedenti. Sicuramente la neve invece è stato un fattore aggiunto da segnalare una particolarità, l'aumento di richieste dello sci di fondo. Quindi questa è un po' una novità perché quest'anno appunto ci sono state parecchie richieste in merito all'agibilità delle piste e insieme allo sci di fondo anche le ciaspolate, sia quelle organizzate che richieste di consigli dove poterle effettuare autonomamente. È possibile che queste richieste abbia qualcosa a che fare con la crisi? Sicuramente una causa sarà molto probabilmente quella, infatti è sicuramente uno sport un po' più economico. L'innevamento ha permesso anche di effettuarlo perché magari gli anni precedenti non era nemmeno possibile, però sicuramente il fattore economico ha influito. Date queste premesse e data soprattutto l'abbondanza della neve e la durata dell'innevamento delle nostre zone favorito dalle basse temperature, si può ipotizzare che saranno ancora molti i fine settimana di forte afflusso turistico in Alta Valle Seriana. Certamente il buon innevamento che lascia preso a giro comunque il mantenimento della neve permetterà questi contatti. Ormai abbiamo notato che è aumentato il turismo di giornata, il famoso turismo mordi e fuggi, per cui le prospettive anche per i prossimi mesi sono buone, tant'è che un po' di eventi, le proloqui comuni li stanno organizzando anche in questa prospettiva. Grazie. Grazie.